Quella sedicesima autorità portuale di cui oggi in parecchi cercano di assumersi la paternità e qua non è una questione di primo genitura, ma ci tengo a rafforzare questo concetto. Era il 23 giugno 2017, invitato dall'amico Nino Dimento, Totò Genovese e Tanino Guida, sono venuto qua a Messina, presso la sala, se non erro, del Consiglio Comunale di Messina a trattare un argomento che allora era molto scottante, nessuno osava dire le cose in un determinato modo. Questa organizzazione sindacale con forza evidenziò la necessità di puntare i riflettori sull'area dello stretto, quell'area integrata, fatta e realizzata solo a parole, ma che mancava di un ulteriore strumento, a nostro avviso, che è nel rafforzarsi la forza e i collegamenti e la progettualità. Ebbene, la Fast Confessor in quella circostanza con forza fece pubblicamente la proposta per l'istituzione della sedicesima autorità portuale.